L'arte è rigenerazione umana, l'arte esce dai palazzi, esce dalle chiese, esce dai musei e si fa rigenerazione urbana e questo è il senso di questa iniziativa, è questo il senso la decisione di Palermo a un'iniziativa che coinvolge 14 stati del mondo, One Voice, una voce unica per dire e ripetere io sono persona, noi siamo comunità per superare gli egoismi individualistici ma anche al tempo stesso per costruire intorno all'arte un'occasione di conferma ma anche di impegno per una vita diversa e migliore, grazie agli artisti che hanno reso possibile di rendere domestica quotidiana proprio da marciapiede la loro straordinaria sensibilità artistica. grazie a tutti grazie a tutti